Sarà disponibile nei centri Porsche dalla primavera 2024, ma la nuova Porsche Taycan si annuncia e voluta in quasi tutti i suoi aspetti. Le tre versioni della berlina sportiva Taycan, la versatile Taycan Cross Turismo, disponibile con un pacchetto off-road e la sportiva e al contempo funzionale Taycan Sport Turismo, saranno disponibili dal momento del lancio con le numerose modifiche apportate. Per ciascuna sono disponibili quattro opzioni di powertrain con varianti a trazione posteriore e integrale. Tutti i modelli rivisitati hanno accelerazioni nettamente superiori a quelle dei loro predecesori. Grazie alla nuova funzione Push to Pass del pacchetto Sport Crono è possibile attivare per 10 secondi un incremento di potenza fino a 70 kW a seconda del modello, semplicemente premendo un pulsante. A seconda della variante di carrozzeria e del motore, l'autonomia può raggiungere i 678 km VLTP e presso le colonnine di ricarica 800 V in corrente continua può essere caricata fino a 320 kW. A seconda dello stile di guida individuale, nonché di altre variabili, è possibile così dimezzare il tempo necessario per passare dal 10 all'80% di carica della batteria rispetto al modello precedente. La nuova sospensione Porsche Active Ride può essere richiesta come optional sui modelli a trazione integrale. Questo sistema garantisce una gamma straordinariamente ampia di opzioni tra l'assetto comfort e quello prestazionale. Le sospensioni mantengono la carrozzeria della Taycan sempre in piano, anche in caso di frenate dinamiche, sterzate e manovre di accelerazione. Con una guida fluida il sistema assorbe quasi completamente le asperità. In situazioni di guida dinamica, le sospensioni Porsche Active Drive assicurano una connessione quasi perfetta con la strada grazie a una distribuzione equilibrata dei carichi sulle ruote. Il duplice miglioramento di prestazioni ed efficienza è dovuto al nuovo motore sull'asse posteriore, che eroga una maggiore potenza, fino a 80 kW rispetto al precedente, su tutti i modelli. Un inverter a impulsi modificato con un software ottimizzato, batterie più potenti, gestione termica rimodulata, pompa di calore di nuova generazione e una strategia di recupero e di trazione integrale modificata. La capacità massima di recupero in fase di decelerazione da velocità elevate è stata aumentata di oltre il 30%, passando da 290 a 400 kW. La dotazione di serie è ancora più ampia rispetto al passato e ora comprende l'illuminazione diffusa, il Park Assist con retrocamera, gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con illuminazione perimetrale, i sedili anteriori riscaldati, il sistema Porsche Intelligent Range Manager, PIRM, e una pompa di calore con un nuovo sistema di raffreddamento, tra altri particolari. rivisitando il frontale e il posteriore ci sono stati aggiunti nuovi proiettori e luci di coda e gli esperti di Porsche Stile hanno ulteriormente affinato la linea pulita e puristica della Taycan. I nuovi parafanghi anteriori e i fari più piatti danno ancora più risalto alla larghezza della vettura. I nuovi proiettori sono caratterizzati da tecnologia HD Matrix ad alta risoluzione con fascio luminoso estremamente preciso. Il logo Porsche nella fascia luminosa posteriore presenta una grafica tridimensionale a effetto vetro. Il quadro strumenti, il display centrale e lo schermo opzionale per il passeggero dispongono di un'interfaccia utente ottimizzata con funzioni aggiuntive. Il selettore di modalità sul volante è ora fornito di serie. Nei modelli Taycan provvisti di pacchetto Sport Crono e di Performance Battery Plus, il selettore di modalità comprende un tasto speciale per la funzione Push to Pass. Grazie a tutti.